Signori, la Marvel ha fatto vedere in anteprima ai giornalisti ben 40 minuti di contenuto di Deadpool e Wolverine ovvero l'inizio o per un certo punto del film appunto di Deadpool e Wolverine e adesso ve ne andrò a parlare ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social mi raccomando usufruite del link in descrizione che vi potrà apparire appunto link in descrizione per l'80% di sconto su Instant Gaming ragazzi potete vedere PlayStation Plus, Xbox Game Pass, tutto quello che volete voi c'è uno sconto della madonna, mi raccomando usufruitele ok signori, prima di continuare però vi devo aggiungere questa cosa questo potrebbe contere degli spoiler durante il film, mi raccomando quindi potrebbe essere vero, potrebbe non essere vero però comunque nel caso vi dico questo se non volete vedere il video, chiudete il video mi raccomando e ci vediamo in un prossimo video che uscirà nel caso che volete vedere, occhio, ci sono degli spoiler non mi date nessuna colpa, non mi date nessuna responsabilità perché io quello che vi sto per leggere vi avverto quindi se volete schippare il video andate in un prossimo video se no, se volete continuare è a vostro rischio e pericolo ok? allora, i giornalisti hanno visto in anteprima 40 minuti del film di Deadpool e Wolverine e ovviamente hanno fatto un riassunto, hanno fatto dei commenti molto generici ma alcuni di questi commenti sono molto frizzanti quindi adesso vi andrò a parlare in questo in che cosa parla in questi 40 minuti Wade lavora come venditore di automobili ed è depresso ti rende conto che può viaggiare in altri universi con l'orologio di Cable che abbiamo visto nel finale post credit di Deadpool 2 e si reca nell'MCU e parla allegramente di come essere un Avenger un vendicatore, ecco poi è il compleanno di Wade e la TVA, che abbiamo visto nelle serie di Loki arriva per arrestarlo poi Paradox dice a Wade che il suo universo sarà distrutto perché l'ancora dell'universo di Deadpool è morta e quell'ancora è Wolverine del film Logan che per chi non lo sa, Logan è un film appunto che parla di Wolverine e della sua morte finale poi Wade colpisce Paradox e prende un Tempand della TVA per viaggiare in diversi universi alla ricerca di un altro Wolverine incontra Patch, variante di Wolverine che non si sa ancora da chi sarà interpretato con un Wolverine senza braccio in un luogo apocalittico interessante e si ritrova con un Wolverine in procinto di combattere Hulk di Mark Raffalo e questi sono i primi 40 minuti di film o i primi credo 40 minuti non lo so se sono i primi o sono un po' pari ecco fatto sa che c'è Hulk ragazzi è da quanto è che non vediamo un Hulk contro Wolverine? solo nei fumetti solo nei fumetti però per il resto diciamo che questo potrebbe essere un buon presupposto per andarlo a vedere al cinema questo film perché dicono che questo film potrebbe salvare l'MCU come sta andando quindi non credo per il Sony Cinematic Universe ma per il Marvel Cinematic Universe visto che nell'ultimo periodo non sta andando un pochino bene speriamo che ci sappi tutti e ricordiamoci che Death Pool è il Gesù della Marvel quindi vabbè signori grazie mille per aver visto questo video ovviamente mi raccomando a vostro rischio è periodico se avete visto questo video se no se non l'avete visto non fai niente noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando uso fluido del link in descrizione per l'80% di sconto su Instant Gaming ragazzi mi raccomando mi raccomando ci sono degli sponti veramente pazzurri ma pure al 90% quindi fate voi signori grazie mille e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti